perché perché sei donna allora il tavolo è pieno di zuzzerine ragazzi ma perché bane the batman ma che gli è successa la voce frate sto video sembra potenzialmente potente e poi c'è sta no è di nuovo matriciana senza la porco dio non l'avevo visto no è questo sembra bolletta questa sera è o senza voce abbiamo degli ospiti andiamo in camera di Joker che stai a fare lo stai che stai a fare di sicuro non sta editando un video non ti devi preoccupare niente è sicuro sto mandando un messaggio una buzzetta è che è vero che hai la mia cameretta si dobbiamo andare a fare la matriciana quando cazzo la fai che ha invitato 500 persone come in due 4 non riuscivo a capirlo avevo invitato solo due persone ma si erano presentati in quattro cominciava a essere strana la situazione o erano due o erano quattro quindi quanti siamo quattro più tutti noi tutti noi che significa bisogna vedere tutti noi siamo nove dieci con dieci e beh quando cazzo la fai la matriciana non riuscivo a capire fino a che stai a muovere arrivo tu cosette tu madre tu cosette tu madre come tua madre perdonami non vorrei dire delle cazzate ma allora il tavolo è pieno di zuzzerine barbar bietola pastinata barbar bietola barbar bietola mamma mia zì questi video ma perché non ho mai visto perché non ho vissuto questo questa epoca la matriciana raga ma giro pesante questo guanciale scritto gigante questa è guanciale la pancetta affumicata oh cosa giro pesante questo è guanciale la pancetta affumicata ora aspettiamo il gioco no raga non ci sto capendo un cazzo e sono solo al secondo minuto ooo thoughts eh ciao finalmente è arrivato zona questo è un guanciale da matrice buono gustosa No, raga, è ritornato un guanciale, è ritornato un guanciale, porco Dio È D'Hamburgo D'Hamburgo, vabbè, raga, pensavo fosse la matrice, vabbè, quello di ieri era la matrice No, 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 il guanciale D'Hamburgo, messo su un hamburg di hamburg dal mango irlandese No, aiuto, si stanno collegando tutti i puntini Raga, guardate quanto so forte Mamma mia, raga, ovviamente ci vuole pure il cortello buono No, forte, la smaciullata, zi Svegliamo questo, ok Proprio, queste sono proprio striscioline, si chiamano, striscioline Sempre attenti alle dita, raga Lo mette tutto? Va bene, così, raga Beccate queste strisce pedonali Ah, fammo l'idea corruttare Ma guarda, l'avevo capito, eh Poi se te la bagni, porco tue Ma sti cortelli sono illegali, guarda come tagliano Per tutto quel guanciale, poi ci vuole una padella adeguata Ma che manizzolse da casa in mezzo ai capellici Ah Eccola qua Ci mettiamo Pipi matte, truce baldanzi, oscurium e fixer, bentornati Grazie per i bittini boys Mazzata che colore storia Ma guarda così Ci servono un po' di pomodori Qua ci schiamo Perché devi fai danni? Beh, mi fa casca tutto E la matriciana esagerata, raga Oh, però almeno non ha messo Non ha coperto lo sponsor dei pomodori questa volta Aspetti così Oh Vedi? Gli viene così di grasso? Ti raccomando Non salate il sugo Quando l'avete fatto E te ce credo che non sale il sugo, porco Dio Se no, sì Mi se ferma Mi rimani qua E il sangue Cioè, sta parte non la fa più del braccio Ammazza, guarda che pomodorone Mi piace Il guanciale rosolato Troppo Non mi piace A me E lei Non gli piace a Ciccio Gamer Quindi per nove persone La fa tutta come io non gli piace a lui Lo lasciamo Io insieme immagino che te viene Forchettata di sta cosa Pi, per sbaglio Beh, perché deve essere per sbaglio Cioè, a meno che non vuoi morire e suicida Prendi tipo quattro pezzi di guanciale E ti mandi tutti giù Dopo che sei scotti dentro all'olio Eccetera Eccetera Dentro al grasso E via dicendo E mi immagino tipo il pancreas Che fa Pancreas Mega dice Volve E boh Tumore maligno Una roba del genere Sì Io dai al salamello E beh, così Se favo manca il cazzo Come dice Giorgione Eh Eh ma Ma eh Porco Dio Ah, molte volte l'ho sentita Sto detto È vero È benissima questa È benissima Eh sì Ma perché se manchiamo pure i carciotti stasera? Eh sì Ma scusa ma stasera Ma chi è? Chi siamo? Io so Dicenze Degna quindicina Daruto Devi stare attento al chakra E potresti usare troppo Siamo passati da s da 4 a 9 Da 9 a 10 Da 10 a 11 Ma siamo 15 Ma poi mi fa morire come ciccio gamer Non ci rimanga Ciccio gamer Tu te la è tranquillo E ragazzi Eravamo 9 Mon cammere Simone E che cosa hai? Giulia tu ce stai? Ma come Giulia te ce stai? Sta dentro casa Giulio Io penso che io sono quanti Io sono 10 10 10 10 Siamo tornati Regà siamo tornati 10 Oh Vedete Ha tirato Ha tirato L'abbiamo fatto voce per un'oretta All'incirca È un bel colore però Non mi dite niente È che semplicemente Non le sto dimenticato Di farvi vedere la pasta Quindi Questo Questo è il risultato Tiè becca Leggi altro La roba che porti dentro Ti spegni sulla pasta? Mi dice Metti a poco No Metti in bocca Sulla pasta Sulla pasta Sulla pasta Sulla pasta Ma metto a poco Vabbè Eccolo qua Nel momento in cui l'ha messa a fuoco Si è messa in bocca Vabbè Comunque Se io vado sui video più popolari Di ciccio gamer Ecco La giornata in piscina C'era un video dell'operazione Che a una certa sbucava in ciò Ammazza frate Ma che è brutta Brutta Bianco e nera Da Juventus Ma sono in pescino Ma va a me Ebbene Oggi Siamo in piscina Che vi fate in piscina Ragazzi oggi siamo in piscina Ma che stanno a fare Ma stanno a registrare lo stesso video Sto prendendo di caldo Esatto Due Tre Che fa Life could be a dream Life could be La scimmia che nuova Perfetto Mi fa ride quando ride Quando non risultiamo più La mia ovvete sta Whisper Challenge Ma scusa Ma è impossibile Palle di sdrogo C'ho detto Palle di sdrogo Il ragazzino ha urlato di eh Ma non potrà mai capire Sì Ma che challenge Ma poi ti stai bevendo il culo E il piscio delle persone È difficile Eh lo so Il cane bau bau Eh guarda Giochiamo a chiapparella Così Ma chi è il pecorino Tua sorella ZA 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 Lui ha la cacarella Lui ha la cacarella Oh la cacarella Ma come ha fatto a capire Ma è un fenomeno mamma di anima succhi a biscotti ragazzi questa whisper challenge è finita ma non è mai iniziata ciccio devo essere proprio onesto con te sono proprio stranito da questo video però la risata sotto acqua mi ha fatto ridere devo essere